Queste parole che ascolterete non sono mie, sono di Sallusti. Sallusti ha fatto il bel libro con Palavara, è un uomo misurato, ma questa volta dice le cose più giuste possibili perché occorre che se uno propone una cosa, la si possa valutare anche noi, a chi la fa l'aspetti. Quindi cosa propone? Propone un ragazzo che si usa a mio figlio di Battista, dice che quando si va in televisione occorre mettere, oltre che la codifica, anche le condanne che uno ha avuto. Bene, le condanne che uno ha avuto, le condanne. Quindi io, che sono stato spesso condannato per diffamazione, per tutte le condanne che ho avuto, forse non potrei andare in televisione perché avrei una lunghissima fila di condanne di cui peraltro non mi vergogno, sono convinto che siano sentenze sbagliate, come tante sentenze di Gratteri, il quale oggi è sulla bocca di tutti, per avere fatto la prefazione, è un libro no-vax. Ma lasciamo perdere Gratteri, le parleremo un'altra volta. Sentite le parole di Sallusti. Scrive ieri sul suo Facebook Alessandro Di Battista, cittadino nulla facente in attesa di rientrare in politica. Qualche anno fa avanza in una proposta alla RAI scrivere nel sottopancia dei politici, oltre alle loro cariche, carichi pendenti e le eventuali condanne. Esempio, stasera abbiamo ospite Roberto Formigoni, ex presidente della regione Lombardia, condannato a dieci anni e cinque mesi per corruzione. Logico no? Un completamento del servizio pubblico. Questo dice Di Battista, con quella faccia che ha, la faccia da Di Battista. E la stessa frase di Battista potrebbe anche applicarla ai giornalisti, perché il castigo etico deve valere per tutti. Scrive, citando il caso di direttore, condannato a 14 mesi e messo ad arresti domiciliari nel 2019. Vero che le arresti domiciliari furono per lui una pena peggiore del carcere perché stava agli arresti con la Santa Che. Quindi scappò di casa per di essere messo in carcere e non essere sottoposto al regime Santa Che. Quindi c'è qualcosa di comico nella vita di Sallusti e anche in quello che gli è accaduto. Vorrei ricordare Di Battista, gli dice però Sallusti, che nel mio caso il sottopancio non debba essere invece Alessandro Sallusti, direttore del giornale e vittima di mala giustizia. Perché quella vergognosa condanna, quindi per quello che ha detto, per il suo pensiero, pensate quante cose ha detto Grillo, quante persone ha offeso, chiamando Berlusconi psiconano, chiamando Veronesi cancronesi, chiamando Morfeo napolitano, insultando chiunque, mandando a fare in culo tutti. Quindi è chiaro che la condanna per l'informazione è una condanna che sembrerebbe limitare alla libertà di pensiero, ma nel caso specifico tanto è che la condanna subita è stata prima annullata dal Presidente della Repubblica in quanto manifestamente infondata e lui se la cavò con una semplice multa e poi sanzionata dalla Corte europea che ha costretto lo Stato italiano ad esarcirmi per ingiusta detenzione. Quindi a questo punto è chiaro che la sentenza finale non è una condanna, ma è anzi lo Stato che deve ripagare quello che ha ingiustamente condannato. Ma non voglio fare un caso personale, anzi li lancio. Ok al sottopancia gogna. Per esempio, quando in televisione appare il leader di Di Battista Beppe Grillo una sfitta deve avvisare fondatore del Movimento 5 Stelle condannato per triplice omicidio padre di un figlio rinviato a giudizio per stupro per un'azione contro una ragazza fatta a casa del padre con la madre nella stanza a fianco. Metterei questo dettaglio perché è giusto anche che si sapeva cosa fanno i parenti più stretti. Già perché formarsi le notizie sul soggetto che appare, quello che vi ho detto, può essere riduttivo. Anche il contesto familiare è importante. Così quando appare Alessandro Di Battista sarebbe giusto informare che chi sta parlando è figlio di un signore indagato per offese al Presidente della Repubblica e finito nei guai per non avere pagato i dipendenti. Oppure quando appare Di Maio Ministro degli Esteri figlio di un indagato per discariche abusive. Cosa dice Di Battista? Prostigliamo con i sottopancia etici? La vittima di mala giustizia? Come è? Salusti ci sta. E voi grillini? Non so se mi convenga. Ecco, mi pare sufficiente. Beppe Grillo, fondatore del movimento dei grillini condannato per triplice omicidio con il figlio indagato per stupro. E viene a leggere in televisione. Quando io lo dico, per esempio, all'Omizio della Grubb quando ancora mi invitava mi interrompeva e mi diceva cosa c'entra? C'entra perché un figlio è educato da un padre e se un figlio stupra evidentemente il padre non gli ha insegnato bene. Non gli ha insegnato quello che non si deve fare. Mio padre mi ha insegnato quello che dovevo fare. Io non ho mai fatto nulla contro nessuno se non dire le mie parole. Sono stato condannato per quello. Invece il povero Grillo ha un figlio che ha avuto un cattivo esempio da suo padre. E forse questo è giusto ricordarlo. Auguri.